giorno 11 dicembre passeremo insieme tutti questi giorni qui e ancor di più mickey mouse ci comunica che mancano 14 giorni a natale vero mio adorato schiaccianoci giorno 11 dicembre vediamo cosa c'è nel pacchettino della essence wow ma che bello questo smalto e che poi oltretutto devo mettermi le smalto alle unghie chissà che non lo utilizzerò giorno 11 dicembre vediamo cosa c'è qua dentro avant è una crema super mega idratante per la notte bene bene molto interessante rossetto rosso sì rossetto rosso no questo è il dilemma quante volte ho sentito queste parole ma a me il rossetto rosso sta malissimo ma chi te l'ha detto lo dici tu perché perché quando vai a provare rossetto rosso ce l'hai a casa se senza trucco hai un colore di vestiti che non è adatto sei in un ambiente che magari non c'è tanta luce e ti vedi malissimo ed è questi l'errore il rossetto rosso sta bene quasi a tutti perché è un classico ovviamente bisogna vestirsi in un certo modo e anche truccarsi in un certo modo la prima cosa in assoluto l'incarnato perfetto deve esserci non deve esserci nessuna macchiolina nessuna piazza sul viso la pelle deve essere tutta omogenea che non si vedano le occhiaie che non si veda nulla e poi anche il tipo di vestiario perché se tu hai un colore che non è adatto al rosso tipo il rosa l'azzurro il verde verde tanto tanto ci sta arancione ovviamente ti vai a provare il rossetto rosso e ti vedi malissimo quindi la prima cosa consigliabile per applicare il rossetto rosso è avere un colore neutro secondo me il nero d'inverno è l'ideale per andarsi a provare perché vedete anche se a me adesso non sta bene perché ho non sono truccata però guardate col nero con rosso come subito si abbina bene e alla fine poi il rosso cosa si mette con l'oro con l'argento con il rosso stesso con il nero questi sono i colori anche il verde non sta male però poi siamo lì e ci sono anche altri colori che sta bene tipo il giallo e blu però adesso non esageriamo perché siamo nel periodo natalizio quindi io vi devo dire che il rossetto rosso lo utilizzo molto d'inverno ma pochissimo c'è mai d'estate perché sta bene anche su una carnagione abbastanza chiara io sono olivastra però d'inverno sono piuttosto chiaruccia e allora mi sta bene d'estate quando sono abbronzata non mi piace molto non mi ci vedo mi fa un po così quindi l'ideale questo qui è proprio per tutte quante il periodo quindi chi ha l'incarnato chiaro sta bene chi ha l'incarnato con le lentigini sta bene lo stesso si sta bene lo stesso ovviamente bisogna calibrare il trucco degli occhi e come dicevo io l'abbigliamento anche i capelli sono importanti però l'importante è che con il rossetto rosso devi essere impeccabile in tutto ecco devi essere perfetta perché il rossetto rosso non dico che è impegnativo però un rossetto bello elegante femminile e deve essere indossato con molta sensualità quindi adesso mi tolgo il rossetto rosso mi ritrucco mi trucco completamente e poi ci rivediamo che vediamo come sono messa con il rossetto rosso quando sono truccata perfettamente allora il trucco è stato eseguito e adesso passo al rossetto rosso i rossetti rossi ce ne sono tantissimi c'è solo l'imbarazzo della scelta sta un po a voi scegliere quello che preferite perché c'è quello rossetto rosso forte rossetto un pochettino più spento quello cremoso quello più matte quindi è un po soggettivo e poi c'è anche il gloss rosso però quello dura pochissimo l'importante è comunque che quando poi vi applicate il rossetto rosso quando andate in giro state un pochettino attente se non lo toccate non bevete non mangiate ok se mangiate bevete così poi magari andate al bagno o avete un specchietto piccolino controllatevi un attimo adesso vi mostro un metodo comunque che dura parecchio in questo modo prima di tutto va messo un primer per le labbra in modo che così non si fissa ancora di più e poi io sto usando questa matita long lasting di wicon la 01 ruby si chiama come contorno esterno e quindi si va subito ad applicarla poi naturalmente dipende anche dal tipo di labbra che avete se l'avete carnose se l'avete più fine se sono tanto fine non è consigliabile mettere troppo rossetto rosso conviene puntare più sugli occhi perché se l'avra sono fine è un po un disastro poi col rossetto rosso vi fa tipo una linea se sbavate un pochettino quando applicate la matita fatevi sempre uso di dei cotton fioc sempre ci devono essere vedete poi si riempie anche così si fissa ancora di più ma io vedo che mi dura parecchio comunque rossetto rossa mi dura parecchio parecchio e adesso andiamo applicare potete applicarlo con un pennellino oppure applicarlo direttamente sulle labbra quando si applica su noi stesse sempre più semplice applicarlo quando lo applichi tu a un'altra persona è molto più complicato è comunque avete visto anche se è un rosso acceso però sta bene col nero poi si addice parecchio poi magari mettete un paio di orecchini anzi l'ideale anche quando andate in giro che vi portate due cotton fiocche l'ideale la matita labbra il cotton fiocche per qualche sbavatura il rossetto ovviamente non si può non portare io non molto sempre il rossetto volendo sopra a questo qui potete mettervi un po di tinta labbra quella della maybelline quello lipstein proprio proprio per bloccare il rossetto come direte ma cambia un po il colore ma neanche più di tanto perché questo è già un colore acceso quindi avete la cremosità del rossetto come quello che ho messo io e in più però vi rimane attenzione all'arco di cupido che deve essere perfetto fate un po di esercizi a volte sull'arco di cupido o anche alle labbra in generale ci può essere qualche imperfezione cioè non è che le cose le labbra sono pitturate e disegnate da un pittore quindi così ecco comunque questo è il risultato finale che non mi sembra niente male se vogliamo possiamo applicare ancora un pochettino di illuminante vediamo è una pena e si può mettere appena appena un po di illuminante anche qua adesso vi do una dritta appena appena però sull'arco di cupido vedete che fa questo anche se appena 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 e voilà il rossetto rosso è bellissimo sta bene alle more sta bene alle bionde sta bene a tutte l'importante è quello che vi ho già detto prima quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate del rossetto rosso se ne avete se avete poi dei dubbi chiedetemi lo scrivetemi qua sotto al video che vi risponderò e vive il rossetto rosso infatti se ci fate caso anche su instagram o sui video comunque c'è sempre rossetto rosso in questo periodo non mi vedo se non ho il rossetto rosso non lo so come mai però mi piace proprio mi mi da aria di festa e poi completa un make up molto luminoso natalizio anche perché poi con questo tempo così grigio rosso è vivace e insomma però devi essere truccata bene altrimenti non non ci siamo proprio prossima volta per quanto riguarda il make up e vi mostrerò e qualche trucco e anche come applicare i glitter che è molto importante ci sono degli attrezzi mi adatti e delle dritte per far sì che gli illuminanti rimangono gli illuminanti e glitter rimangano dove si applicano io e la mi lady vi salutiamo ci vediamo domani con un altro video Viva il rossetto rosso Maltesa dove sta? Maltesa è andata di là Viva il rossetto rosso e niente basta il rossetto rosso e basta o e basta e basta i e soprattutto e quando e batti